Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi torniamo a parlare di giochi di ruolo e voglio parlarvi di Lovecraft-esque, gioco di ruolo che tra l'altro ha vinto il premio gioco di ruolo dell'anno 2018 e un titolo che ovviamente per gli amanti di Lovecraft non deve assolutamente mancare, però ovviamente le considerazioni me le do alla fine, edizione italiana a cura della narrativa che voglio appunto ringraziare e colgo l'occasione per avermi dato la possibilità di recensirlo, per avermi mandato questa copia e soprattutto per avermi dato la vostra fiducia. Quindi grazie di cuore ragazzi, è un onore collaborare con voi, grazie immensamente. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Come dicevo, Lovecraft-esque è un gioco della edizione appunto, edizione narrativa. È un gioco di ruolo, secondo me, proprio nel senso più puro in assoluto del termine, più limpido, perché di un 200 pagine una cosa del genere, pagina più, pagina meno, e in tutto il manuale, a parte qualche consiglio e qualche, tra molte virgolette, regola su come andare a costruire la vostra storia, non ci sono regole. Proprio non ce n'è. In 200 pagine non c'è una singola regola, a parte le regole di costruzione dei capitoli che poi vado a descrivere, e delle scene. E i ruoli principali, che sono il giocatore e il dungeon master, che qui assumono altri nomi, come tipo il giocatore, il player classico è il testimone, il dungeon master è il narratore, e c'è una terza parte di supervisione e coordinatore, però che viene inserita da una partita tra i più giocatori. Perché questo è un gioco dove, secondo me, già voler inserire alla fin fine più di un investigatore, che in ambientazione Lovecraft, Cthulhu, si va sempre a investigare. Sicuramente non siete i Rambo della situazione, né tantomeno un gioco d'azione. Però il protagonista è uno, e il narratore ce lo passiamo a vicenda. Di solito in una partita ha due giocatori, uno fa il testimone e uno fa il narratore. In una partita ha tre giocatori, uno fa il testimone, uno fa il narratore, che se lo passano a vicenda, ovviamente deve sempre cambiare ogni scenetta, il narratore deve essere differente, perché è un gioco di ruolo, appunto, masterless. E poi c'è questa terza figura, che è il coordinatore, che vuole rinvigorire e rimpolpare di contenuti e idee proprie personali, l'avventura, avventura che ovviamente però deve essere preconfezionata all'inizio, e deve andare verso una direzione. Questo vuol dire che, prima di iniziare la partita, magari la prima seduta di gioco, ci si trova al tavolino e tutti quanti, due o tre giocatori, secondo me il meglio lo dà in due, ci mettiamo al tavolino e decidiamo dove è ambientato, in che anno è ambientata la storia, quale sarà il personaggio, perché per quanto giochiamo in due, il personaggio è uno. Il pro poi, ne potete anche creare due, non c'è premi, però il personaggio è uno. Quindi dobbiamo scegliere chi sarà il personaggio, quindi l'età, la provenienza, l'etnia, le esperienze, insomma quello che ha fatto nella vita e anche e soprattutto il background, e dobbiamo scegliere dove è ambientato, in che anno è ambientato, ma poi soprattutto, che potrebbe essere ambientazione sulla terra, spaziale, quello anche sci-fi, quello che volete voi, ma soprattutto i toni della storia. Cioè la vogliamo fare nuda e cruda? Vogliamo mettere discorsi come l'omofobia, come il razzismo, oppure sono cose che vogliamo evitare completamente? Vogliamo metterlo, non lo so, al tempo della dominazione dei tedeschi, dell'Europa in seconda guerra mondiale, del Reich? Oppure vogliamo mettere toni un pochino più scansonati, divertenti e quasi comici? Perché potete farla anche in chiave comica. Ecco, il manuale più che essere un regolamento, mettiamola così, perché un GDR lo è all'ennesima potenza, un gioco di ruolo, di ruoli, però a livello di regolamento non ha una singola regola, infatti questo gioco non ha nemmeno un tiro di dado. Non ha un singolo dado e tutto quello che deve succedere in gioco è puramente narrazione, dovete narrare tutto quanto laddove si inizierà magari. Voglio iniziare io il primo capitolo a narrare, che poi sono tre capitoli, l'inizio dell'investigazione, arrivare più o meno a capire cosa è successo, scontro finale col mostro, col boss o col culto, con quello che è di solito un mostro nella meditazione di Lovecraft. Prendiamo ad esempio, e ognuno di questi capitoli è diviso in vari sottocapitoli, ad esempio il primo è diviso in cinque, se non mi ricordo male, il secondo in tre o in quattro e l'ultimo in uno. Quindi la parte iniziale, che è l'input dell'inizio della storia, dovete scegliere fra di voi, magari siete in due, giocatore A e giocatore B. Giocatore A dice io voglio muovere il testimone, giocatore B dice ok ho delle buone idee per fare il narratore. Quindi narrerà l'inizio della storia, gli NPC, ma soprattutto narrerà anche cosa va a succedere appunto al giocatore, al player, che è il testimone. E il testimone come in una normalissima partita di ruolo deve stare attento a quello che gli narra il Dungeon Master, il narratore poi deve decidere cosa fare. Quindi descriverà le sue azioni e il narratore la storia. Finita la prima parte, vi ricordo che il personaggio è della storia, non c'è mio, tuo, il mio personaggio, il tuo, o la scheda del tuo personaggio e la scheda del mio. C'è un personaggio fatto in due all'inizio della partita, quindi dovremmo decidere anche se sarà un uomo, una donna e tutto quanto, e quello è il personaggio che dobbiamo portare alla fine, quindi non dovrà morire, perché se il narratore narra che quello ha il secondo atto, alla seconda scena del primo capitolo, muore, fine della storia. Quindi questo qui è più un gioco da comunque una one shot, massimo due. E quindi il narratore verrà avvicendato fine della prima scena, del primo capitolo, siamo arrivati alla città, mi viene in mente anche Alan Wake, siamo arrivati nella tavola calda, abbiamo preso le chiavi del cottage, siamo arrivati sul cottage e al momento che arriviamo sul cottage l'NPC che era insieme a noi sparisce. Che cosa è successo? Si sospedde tutte le luci e lui è sparito. Dove è finito? Non lo so. Ok, fine primo atto, deciso insieme. Secondo atto, il narratore cambia, quindi va al giocatore A che ci aveva il testimone, mentre il testimone passa al giocatore B. Ora tocca al giocatore A, non vi mettete mai a tavolino a scegliere cosa succederà, perché rovinate anche l'improvvisazione. Il giocatore A potrebbe dire, ok, l'atto 2 inizia con il protagonista, il nostro testimone, che va all'ufficio dello sceriffo locale, della polizia locale, e va a chiedere aiuto perché la compagna o il compagno, l'NPC che era con noi, è scomparso misteriosamente. Quindi il secondo capitolo c'è la polizia che arriva sul cottage, delimita tutte quante, cercano nei boschi adiacenti, mandano magari una squadra di sommozzatori nel lago a volte per vedere se fosse caduto affogato, insomma. E questo è il secondo capitolo che verrà narrato da un altro narratore. Ve lo dovete sempre avvicendare, però la storia deve seguire una trama. Cioè, se è una cosa investigativa, non potete fare a un certo punto dal terzo capitolo che venite invasi da una banda di montanari impazziti con le motoseghe e i fucili che iniziano a dare fuoco a tutto, perché non tornerebbe a quel punto lì. Nemmeno potete prendere il tipo di storia che state creando, cambiandogli completamente ambientazione, magari mandandolo addirittura in un mondo demoniaco, o proprio cambiando anche completamente location, magari da una location americana. Boh, il tuo personaggio perché non ne può più di stare lì, prende un aereo, va in Italia, e lascia perdere la persona che è scomparsa. Non potete creare storie del genere. Deve avere comunque una storia, come ve la potreste immaginare, in un romanzo appunto di Lovecraft. Quindi in una storia horror che deve avere un inizio, una fine, uno svolgimento nel mezzo, ma soprattutto deve essere credibile. C'è poco, ragazzi, da mostrarvi. Vi faccio un po' vedere il manuale. Più che altro, la cosa figa è questa luce che ricorda un pochino il luminol, perché nel manuale hanno usato un inchiostro, che è lo stesso con cui si fanno i timbri delle discoteche, per farvi capire, infatti così ci dice, che su delle pagine ci sono delle foto che per stile artistico hanno deciso di farli in posti abbandonati, tipo il manicomio di Volterra, che secondo me ci stanno anche da paura, ed è bellino che puntando il luminol, ora non vi voglio accecare, questa lucina qui viola, In queste pagine magari si vede una figura spettrale, oppure, non lo so, un tentacolo che prende qualcuno e l'ammazza, ed è veramente molto carino e accattivante. Non c'è unboxing, ragazzi, però vi faccio vedere un po' come è il manuale. Manualetto, veramente piccolo, però bello grosso. È piccolo, ma bello grande, pieno zeppo di cose. Vedete, editore e narrativa, e hanno scelto questa copertina bianca, con il simbolo degli antichi al centro, ed è veramente bello. Mi piace, mi piace da morire semplice, a me piacciono molto le cose semplici, non troppo costruite, editore e narrativa, e poi, vedete, ci hanno messo questa torcettina qui, che vi acceco un attimo, ed è quella che serve per evidenziare. Guardate, Ganzo, guardate che figata, io spero che si veda nel video. Anche semplicemente passando, guardate, la torcettina sulla copertina, guardate che c'è una vera e propria copertina molto più articolata, guardate, disegnata sotto. Cioè, questa hanno avuto un'idea, secondo me, grandi. Numeri 1 non l'ho mai visto fare, è in un gioco di ruolo, prima volta. Ve l'ho detto, ragazzi, più che altro nel manuale ci sono poche immagini, e per la maggior parte sono prese da posti abbandonati, tipo il manicomio di Voltaire, e cose del genere, quindi anche molto evocativi per un'ambientazione del genere. E, dimenticatevi regole, questo libro qui è un saggio sull'ambientazione di Lovecraft, e vi dà l'infarinatura principale su come giocare, che tanto come giocare e capire come sono questi tre ruoli che vi ho descritto, e come dividere la storia in tre capitoli. Primo capitolo di investigazione con cinque scene. Secondo capitolo, sempre di investigazione, ma un passo più vicino a risolvere il mistero, di solito di due, tre, massimo quattro scenette. E l'ultimo capitolo finale, dove appunto c'è la scena di combattimento, col mostro finale o comunque con l'entità. E vedete anche in questa foto qui, che questa foto è presa direttamente dal manicomio di Volterra, ovviamente c'è pieno di richiami, ovviamente frasi storiche di Lovecraft, e per la maggior parte piccoli estratti dei suoi romanzi. E come vedete anche qui, una figata assurda, perché ti viene, io la scaricherò presto sta torcetta, perché si cerca, si cerca, no? Qui c'è un disegno, vedete? Qui c'è una specie di creatura aliena, che sembra un po' una progenie stellare o qualcosa del genere, nascosta dietro l'angolo. Ed è bellino, perché l'idea di camminare in un posto abbandonato, dove con la torcia riesce a vedere creature nascoste, oppure anche ecchi del passato, è veramente una figata assurda. Ma non si trova solo su queste pagine qua, eh, sulle immagini, si trova anche su altre paginette normali. Anche andando su paginette normali, a volte ci sono, vedete anche qui, delle semplici scritte cose da leggere, che non sono assolutamente cose utili al regolamento, e cose varie, però insomma, vi danno veramente quel tocco, secondo me, d'ambientazione in più, e qui infatti c'è un'impiccata. Vedete qua su in cima, o se non sembra forse tenuto per la gola da qualcosa, e qui ci sono macchie di sangue. Manualetto, io me lo sono letto in un fiato, in un pomeriggio, perché veramente da amante di Lovecraft l'ho adorato, ed è praticamente un saggio, sulla vita dello scrittore, e poi soprattutto sulle sue opere maggiori, e vi dà un casino di consiglio, un po' logorroico a volte, eh, perché certe cose te le spiegano veramente 300 volte. C'è un capitolo intero, tipo 20 pagine, che parlano del razzismo al tempo di Lovecraft, ma già dopo 3 pagine l'avevo capito io come funzionava, no, l'hanno ripetuto 300 volte, però, oh, anche io sono così, sono logorroico come questo manuale, le cose, e ti devono entrare in testa, infatti dopo che l'ho letto una volta, le cose mi erano entrate fortemente in testa appunto, ed è pieno di disegni tutto quanto, e qua giù in fondo, ci sono delle piccole schede, e vedete delle carte azione speciali, perché queste possono essere utilizzate in vari modi, la cosa principale che mi viene in mente, è, vedete, le carte hanno questo simbolo qua giù, che vuol dire che questo simbolo rimane in gioco, e il simbolo del fulmine che invece usa e getta. Queste carte possono far succedere delle cose impreviste, che passano sopra le regole, nel momento, nei momenti che meno ve le aspettate, di solito ne viene data una o più, o anche due per giocatore, e nel momento che magari il narratore sta narrando qualcosa, te potresti magari giocare una di queste carte, per far succedere qualcosa di imprevisto, magari alzi la mano, fai presente che vuoi interrompere un attimo il gioco, butti una di queste carte, e guardi che cosa può succedere. Carte che ovviamente sono pre-confezionate, o qua giù siete liberi di crearvene di vostre, come vedete qua. Queste sono immediate, queste invece con l'orologio, sono cose che dureranno nel tempo, e quindi per tutto il capitolo, se non per tutta l'avventura. Ed è una trovata veramente geniale, e poi hanno messo la regola di prendere un cartoncino, o un pezzo di carta, farci una X sopra, e metterla al centro tavola. Quando il narratore, o anche il testimone, o anche il coordinatore, vanno verso un tipo di storia, che a qualcuno potrebbe dare noia, perché magari abbiamo creato un'avventura, al tempo dei tedeschi, della seconda guerra mondiale, però qualcuno potrebbe dare noia, un rastrellamento, magari in un quartiere ebreo, ebraico, cose del genere, e quindi magari, se la scena è troppo forte, un giocatore può allungare una mano, su questa X, il gioco si ferma, e fa presente appunto, che questa cosa gli dà noia, sarebbe meglio non toccare quell'argomento, e quindi si cerca di alleggerire un po' Tony. Ragazzi, ve l'ho detto, il manuale, non ci sono regole, quindi anche inutile descriverlo, però, va sicuro, per un amante di Lovecraft, questo qui è un pezzo d'oro. Quindi, torcetta a parte, che se è una stupidata, a me mi calma da morire, vi giuro, ma ha dato un tocco disumano, infatti l'hanno fatta apposta, hanno avuto una grandissima idea, se devo dare un voto, a un gioco come Lovecraft-esque, gli do un 7 su 10, perché, questo GDR, scritto a più mani, più che un gioco di ruolo, è un saggio su Lovecraft, ci spiega la sua vita, ci spiega le sue idee, soprattutto in ambito razzista, perché era, vabbè, per il mondo dove viveva all'epoca, magari non lo era, ma per noi oggi, ci sono delle cose, ti fanno rigirare lo stomaco, era particolarmente razzista, Lovecraft ragazzi, e lo sa chiunque, chi lo segue lo sa, quindi come detto, più che un regolamento, è veramente un saggio, di approfondimento, sull'ambientazione di Lovecraft, e soprattutto sul mondo, sul tipo di scrittura, e sul tipo di racconti, che lui voleva andare a creare, lasciando stare, i primi racconti, che erano forse più poesie, cose del genere, fino ad arrivare, a racconti veri e propri, come il Tempio, le montagne della follia, e tutti quelli più famosi, aria fredda, che ho adorato, e quelli più famosi, insomma, che qui dentro, vengono tutti quanti ricordati, ed è un'opera creata, da veramente, da persone che Lovecraft, lo adorano, alla massima potenza, però, vi devo dire la verità, questi giochi di ruolo masterless, da, forse non fanno molto per me, e io infatti faccio dei cosa ne penso, come dico sempre, cioè, è una visione molto, mia, personale, perché, cioè, da levare il dungeon master, ne inserisci 40 di dungeon master, cioè, nel gioco di ruolo classico, te sei il giocatore, voi siete i giocatori, io sono il dungeon master, o viceversa, però, il dungeon master che crea la storia è uno, alla fin fine, quindi, ha già un'idea precisa in testa, e come portarla avanti, come evolverla. Il casino di passare, la palla, ad altri giocatori, che devono portare avanti, la storia creata in due o tre persone, dovete essere un gruppo affiatatissimo, ragazzi, perché, io sono convinto che l'avessi portato nel mio gruppo, quando giocavo anni fa, non avrebbe funzionato, ma non perché siamo un gruppo di scemi, o perché, anzi, io, io e il mio gruppo, lo reputo, anzi, giocatori di ruolo, di vecchia date, vecchia scuola, e soprattutto, giocatori di ruolo che se ne intendono, però, sono convinto che io avrei creato, un'azione più investigativa, perché mi piace da morire le investigazioni, magari un altro mio amico, ci avrebbe voluto buttare qualche demone, qualche scazzottata, e un altro ancora, magari avrebbe voluto fare qualcosa, un pochino più action, quindi, è difficile mettere insieme tante teste, che ognuno ha la propria visione, della partita e dell'avventura, è anche vero che all'inizio, ci si mette d'accordo a tavolino, ma le osa a tavolino, mi hanno insegnato che in Italia non funzionano, ci si mette d'accordo a tavolino, la storia è inventata nel main, vi faccio l'esempio, in America, e nella storia bisogna, vi faccio un esempio del cavolo, bisogna indagare, su un presunto clown demoniaco, che rapisce bambini, quindi, alla fin fine, sì, l'infarinatura principale, ce l'abbiamo, però, cioè, basta un attimo per rovinarla, e è anche vero, che ci si può fermare e dire, no, però sta cosa, te vai fuori completamente, da quello che avevamo creato all'inizio, sì, però tutto, fermarsi, tutto, no, aspetta, però, no, ma questa non va bene, no, ma questa autunna, secondo me, un gioco del genere, non dico che non funziona, funziona perfettamente, ma dovete avere, un gruppo affiatato, affiatato, da morire, e soprattutto, non è per niente, un gioco di ruolo, non c'è dadi, non c'è niente, ma non è assolutamente, un gioco di ruolo, adatto, ai neofiti, perché, laddove, in un gioco di ruolo, col tiro di dadi, sì, ci può anche succedere qualche cavolata, ma tanto tiri il dado, e fai, ho fallito la prova, o non sono riuscito ad osservare, quindi questo dettaglio mi è sfuggito, o quel tizio non l'ho colpito sparandogli, la nascondi meglio, la cavolata, o cose del genere, in un gioco del genere, che si basa tutto sulla narrativa, è un attimo veramente, che descrivi il tuo personaggio come un pugile, poi vai a attaccare il cultista davanti, di 70 anni, non lo so, tu Lufthang, lo manchi, perché il narratore ti dice che lo manchi, e si blocca il gioco, sì, ma io sono un pugile di 30 anni, quest'altro vi è un cultista di 70, come ho fatto a mancarlo, cioè, va messo nel gruppo giusto, averlo messo nel gruppo mio dell'epoca, ogni tre, tre scene, no, tre scene, ogni tre minuti, mi avrebbero interrotto, ci sarebbe stato, però questo non lo puoi fare, no, ma questo, quindi, il gioco può funzionare, ma ha bisogno di un gruppo affiatatissimo, quindi, 7 su 10, lo rinnovo, meritatissimo, un gran bel gioco, però, secondo me, non per tutti, e io, nella mia visione personale, continuo ad apprezzare molto di più, i giochi di ruolo, vecchio stampo, con o senza dadi, possono anche non avere i dadi, a me non me ne frega nulla, però, dove il Dungeon Master è uno, porta avanti la storia, bella o brutta che sia, e tutti gli altri fanno i giocatori, devono pensare solo a fare i giocatori, devo anche ammettere che le idee che ci sono qui dentro, sono veramente spettacolari e innovative, quindi, meritatissimo il voto, ragazzi, se lo volete acquistare, e se volete acquistare GDR, i giochi da tavolo, vi ricordo, lo vedete in sovrimpressione, primo link in descrizione, board game discount, con i prezzi più compositivi sul mercato, vi sfida ad andare a vedere se non è vero, e in più, tutti quanti i loro giochi, li potete pagare a rate, dunque, primo link in descrizione, board game discount, più tutti quanti i nostri social a seguire, ciao ragazzi, alla prossima!